Quali sono le principali problematiche che stanno affrontando le piccole e medie imprese in questa fase difficile dell'economia? Ci sono milioni di cittadini italiani che si chiamano artigiani, che ogni giorno rischiano improprio, non hanno garanzie, non hanno indennità di malattia, nessuno li tutela tranne la CNA, ma devono avere una rappresentanza e la CNA è qua per questo. La crisi ha messo a nudo tutte le difficoltà della categoria artigiana, la mancanza di sicurezza sul lavoro, i contratti che non ci sono, le esportazioni che non sono efficienti, la burocrazia che li trattiene, le banche che non li aiutano, tutta una serie di motivazioni che ci spingono ad andare a Roma per dire che vogliamo essere una parte importante di questa società. Grazie